Hai un immobile a Genova e desideri venderlo in tempi rapidi? Oppure sei alla ricerca di una casa da acquistare? In entrambi i casi posso aiutarti. Sono Fabio, questo è il mio canale YouTube e qui parlo delle dinamiche del mercato immobiliare e di come interagire proficuamente con un consulente immobiliare come me. Consulente di parte immobiliare è il ruolo che rivesto quando seguo il tuo progetto. Sono un agente immobiliare attento alla qualità, ma la qualità si può mantenere soltanto gestendo poche trattative per volta in modo da ottenere il miglior risultato di vendito o di acquisto a cui naturalmente il cliente ambisce. Tre sono le peculiarità che mi distinguono dagli altri agenti immobiliari. La prima, gestisco la vendita del tuo immobile interagendo con tutte le agenzie immobiliari in collaborazione e questa è una cosa molto importante, ricordatelo. Oppure, se devi acquistare una casa, ti aiuto evitandoti tutta la fase estenuante di ricerca, analisi, nonché tutte le verifiche burocratiche, seguendoti naturalmente fino al rogito notarile. La seconda, seguendo poche trattative, posso darti la massima attenzione e fornirti frequentemente degli aggiornamenti sulle mie attività e con te sviluppare la strategia in evoluzione. Ma la terza è la parola magica del mio metodo, collaborazione. Ricordati, collaborazione. A Genova ho creato una vastissima rete di sinergie con tantissime agenzie immobiliari che mi permettono di risolvere il tuo obiettivo che sia di vendita o di acquisto in tempi molto rapidi. Ora ti chiederai come posso aiutare anche te. Devi contattarmi. Puoi farlo via mail all'indirizzo info-acropoli-immobiliari.it o telefonarmi al 335-666-3881. Valuteremo il giusto posizionamento dell'immobile che devi vendere oppure, se devi acquistare, ti ascolterò sentendo le tue esigenze e i tuoi desideri e valutarne la fattibilità. Ti assicuro che se ti proporò i miei servizi è perché avrò realmente considerato e valutato che la possibilità di successo è vicina al 100%. Non perderemo tempo. Vuoi essere aggiornato sul mercato immobiliare e capire come sfruttare le potenzialità di un consulente che si pone al tuo fianco come me? Iscriviti ora al mio canale, ne scoprirai delle belle con la dovuta competenza condito con lo spirito che mi contraddistingue. Grazie. 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 Grazie.